E buonasera per questa appendice calcistica, il Lanciano ci resta al primo posto della classifica, ci resterà almeno fino a sabato prossimo, fino alle partite dell'ottava giornata. Infatti si sono concluse quelle della settima con il doppio posticipo, come vediamo dai risultati aggiornati. Lavellino che ha battuto l'Empoli per 1-0, gol di Galabinov sul rigore, subito nel primo tempo con l'Empoli rimasto in 10 per un'espulsione. E poi il posticipo delle 21, il Cesena 1-1 con il Pescara che ha raccolto dunque un pareggio, pareggio molto sofferto per i biancazzurri al Manuzzi. A proposito di questa partita diciamo che il tecnico Pasquale Marino per far fronte ad alcune assenze che ancora persistevano ha fatto rientrare intanto Balzano in difesa, Rizzo a centro campo. Ragusa spostato esterno d'attacco ma la grande sorpresa è stata l'assenza del portiere Pelizzoli che non era neanche in panchina, ha confinato in tribuna per un torcicollo almeno ufficialmente. Pigliacelli tra i pali del Pescara invece per quanto riguarda il Cesena, mister Bisoli ha confermato Tabanelli a sostegno delle due punte, Granoce e Nazarevic in una partita che non è stata bellissima. Però comunque ci sono state delle emozioni da una e dall'altra parte, il Pescara tra l'altro ha giocato l'ultima mezz'ora in 10 uomini. Possiamo andare a vedere proprio le immagini salienti dalla Manuzzi di Cesena su quanto accaduto subito al 17esimo minuto un tiro di Coppola dal limite dell'area con la parata di Pigliacelli. Poi al 31esimo Nadarevic abbiamo visto con il sinistro diagonale fuori il Pescara prima un tiro di Viviani da 30 metri su appoggio di Cutolo. Poi vediamo qui ancora che si deve impegnare Pigliacelli sugli attacchi del Cesena. Qui abbiamo visto quello di cui vi accennavo prima, il tiro di Nadarevic dal limite dell'area con il sinistro. Palla che non ha toccato Pigliacelli, poi Cutolo calcio di punizione con i pugni, respinge il portiere del Cesena Campagnolo. Ci sarà poi ancora un'occasione per il Cesena dopo questo calcio di punizione a giro di Cutolo forse troppo centrale. E questo è Nadarevic dal limite dell'area, il suo sinistro, il fendente che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. Poi ancora il Pescara, ancora con Cutolo dalla distanza, tiro alto sulla traversa, il primo tempo finisce qui. Nel secondo il Cesena ci prova con un tiro in corsa di Coppola che rivediamo subito dopo. Una grandissima occasione per il Cesena, forse la più ghiotta. Una palla bassa di Tabanelli da destra in area di rigore come vediamo adesso con D'Alessandro che si mangia un gol fatto. D'Alessandro che è entrato in campo nel secondo tempo a sostituire Cascione, molto in ombra l'ex Pescara nel primo tempo giocato. Ancora il Cesena, vediamo qui al dodicesimo, guardate Pigliacelli, portiere del Pescara, esce su D'Alessandro. Il fallo è netto, si vede a rallenti, niente da dire, calcio di rigore, purtroppo espulsione da parte di Ciampi di Benevento al portiere del Pescara. Entra Belardi in porta e para il rigore di Succi, la blocca a terra, Succi è tirato malissimo, debole centrale. Il 36enne portiere del Pescara all'esordio in biancazzurro, para subito un calcio di rigore, ma non è servito a molto perché dopo ci sarà il vantaggio del Cesena. Dopo questo calcio di rigore di Succi, vediamo la punizione di De Feudis, Tabanelli di testa, rimette al centro dell'area piccola. Granocce è entrato da pochissimo in campo a sostituire Succi, fulmina così Belardi per il vantaggio del Cesena. Eravamo al 25esimo della ripresa, il Pescara dopo aver subito il raddoppio, aver sofferto molto in dieci uomini, aver creato qualcosina, ma non aver mai tirato nello specchio della porta del Cesena, ha raddrizzato la partita con Politano, al 43esimo entrato in campo per sostituire Rizzo. Ha avuto ragione in questa sostituzione Marino che ha mandato in campo un attaccante esterno per un centrocampista. Vediamo il giovane Matteo Politano, ha segnato un grandissimo gol dopo una fuga sulla sinistra. Mentre qui continuiamo a vedere i festeggiamenti di Granocce per il gol del vantaggio del Cesena. C'erano tra l'altro 800 e più tifosi del Pescara che festeggeranno alla fine della partita questo pareggio che, visto come si era messa la gara, sembrava esperato. Rivediamo ancora una volta il gol del vantaggio del Cesena dalla punizione di De Feudis, la torre di Tabanelli. Il gol da distanza ravvicinata di Granocce. E qui il grand gol, guardate, di Politano dopo la discesa dalla sinistra. Ha tirato verso la porta Politano, niente da fare per Campagnolo. Palla all'incrocio dei pali, un gol di rara bellezza. E Marino qui tira un sospiro di sollievo. Era molto preoccupato il tecnico siciliano del Pescara. Finisce così, uno a uno, un punticino per i biancazzuri che sabato affronteranno lo spezia dell'ex Giovanni Stroppa. Lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia in attesa del ritorno alla vittoria che manca dalla prima giornata. Linea che torna Paola D'Alonso.